Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, eccoci qui ancora una volta insieme per parlare di Fanta Calcium. Parliamo oggi di 5 giocatori svalutati dopo la prima giornata di Serie A. Prima di continuare però mi raccomando se non l'avete ancora fatto like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale, è gratis, grazie mille. Il primo giocatore svalutato, parlando di casa Inter, è sicuramente Gossens. Al momento il tedesco non convince ancora, non convince sia da un punto di vista fisico, perché comunque si vede che il giocatore non è ancora in condizione, speriamo che possa entrare in condizione presto e speriamo che sia solamente un discorso fisico a livello di preparazione che non c'entri nulla all'infortunio che ha avuto l'anno scorso e allo stesso tempo però non convince secondo me neanche da un punto di vista del gioco, perché lo vediamo un po' avulso, non lo vediamo ancora al centro diciamo della manovra offensiva di Inzaghi e dell'Inter. Da quella parte l'anno scorso c'era Perisic e spesso l'Inter attaccava da quella parte. Ovviamente si sta parlando di una svalutazione abbastanza contenuta, penso che almeno il 7% in leghe col modificatore Gossens venga ancora pagato, però secondo me ad oggi la distanza tra il prezzo di Gossens e quella del prezzo di Dunfriss e di Theo si è un po' andata ad ampliare. Prima stava magari intorno al punto, punto e mezzo percentuale, ora credo che tra Gossens e Theo possano anche ballare 3-4 punti percentuali, tra Gossens e Dunfriss penso che almeno due punti pieni possano esserci. Il secondo nome svalutato, anche qui si sta parlando di una svalutazione minima, ma secondo me c'è, è quello di Lautaro Martinez. Non perché Lautaro abbia fatto male, ma perché credo che la partita contro Lecce abbia in qualche modo confermato che l'uomo al centro lì dell'era di rigore in attacco sarà Lukaku. Lo avevamo già detto, alcuni non erano convinti, alcuni pensavano che grazie alla presenza di Lukaku lo stesso Lautaro avrebbe avuto più spazi e magari sarà anche così, però da quello che abbiamo visto Lautaro gira molto intorno a Lukaku. Non è un caso che quando è entrato Dzeko nel secondo tempo e l'Inter è andata all'attacco, Lautaro abbia quasi fatto il trequartista. Quindi Lautaro sicuramente i suoi gol li farà, sicuramente farà una stagione da protagonista, però io credo che in questo momento la distanza di prezzo tra Lukaku e Lautaro potrebbe andare un po' ad ampliarsi. Molti di voi diranno, ma è solamente una partita? Ragazzi, se avete fatto il fantacalcio già negli anni scorsi, sapete che anche una sola partita a livello di prezzi può incidere per almeno 1-2 punti percentuali. Non vi sto dicendo che Lautaro adesso ve lo regaleranno, però se prima abbiamo visto dei Lautaro anche andare al 27-28%, io credo che in Lega 10 il tetto massimo di Lautaro sarà quello che avevo indicato nelle fasce, 25%. Non credo che andremo a vedere dei Lautaro sopra questa percentuale. Parlo delle aste ovviamente fatte dopo la prima giornata. Il terzo giocatore svalutato, e qui la svalutazione è pesante, non può che essere Lukic. Non perché Lukic abbia giocato male, ma perché Lukic non ha neanche giocato. Lukic è l'emblema di quello che è le random al fantacalcio. Qui forse è ancora più di un infortunio. Il giorno prima Juric ne parla come il capitano, il giocatore chiave del suo centrocampo, il giorno dopo succede quello che succede. Ora io qui non voglio entrare nel merito della questione perché penso che né io né voi sappiamo davvero quello che sia successo. Sicuramente c'è il discorso del contratto, Lukic guadagna abbastanza poco per essere un giocatore importante del Toro, 700.000 euro, sembra che gli avessero offerto, o meglio promesso, un rinnovo a 1,5. Probabilmente poi c'è stato qualche problema in serie di rinnovo. Lukic a quel punto non ha voluto rispondere alla convocazione e dovrebbe essere questo quello che è successo. Poi sono usciti anche dei rumors, un faccia a faccia addirittura tra lui e Juric. Io qui onestamente non vado oltre perché poi lascio questo ai giornalisti perché non è il mio compito e non ne so più di voi. Sicuramente la situazione Lukic al momento preoccupa perché qui possono succedere tre cose. O fanno pace, la situazione rientra e Lukic fa la sua stagione da protagonista perché Lukic se gioca nel Toro è un protagonista. Al di là dei rigori è comunque il leader tecnico di quel centrocampo, o viene venduto a un'altra squadra in serie A, si è parlato di Roma, ma non solo, o va all'estero. Non ci sono molte soluzioni. La cosa che mi fa pensare positivamente, ma neanche più di tanto, è che in passato al Torino sono già accadute situazioni simili. Pensiamo ad esempio a Anculu, che poi si sono un po' risolte. Qui forse la cosa è un po' diversa. Ragazzi, consiglio personale? Allora, se avete la regola che il giocatore va all'estero o potete svincolarlo a prezzo di lista, aspettate. Non scambiatelo, non svalutatelo, non andate a far plus valenza ad altri avversari. Tenetelo voi, al massimo farete poi voi la cessione quando sarà il momento. Se non avete questa possibilità, non so quanto abbia senso scambiarlo. Che cosa vi danno in questo momento per Lukic? Lukic è un giocatore che abbiamo, avete, perché l'ho preso anch'io, pagato il 4, massimo 5%. Non si sta parlando di una cifra così alta. Quindi tutto sommato, secondo me, vale la pena aspettare se le cose dovessero andare male, a seconda anche del vostro regolamento. Abbiamo perso un 5%, ecco perché vi dico che è importante a centrocampo fare datching. Perché se abbiamo fatto datching con Lukic al 4-5, per un Lukic che magari ci va male, c'è un Sabiri che invece va bene. Se abbiamo fatto datching sui top e magari abbiamo preso Malinoski al 9%, Malinoski poi va via, è già un po' diverso. Quindi tutto sommato è un investimento che ci sta. Aspettiamo, vediamo quello che succede e poi ovviamente andremo ad agire di conseguenza. Il quarto nome svalutato è Giroud. Perché Giroud? Giroud non ha praticamente giocato, non ha fatto quasi nulla di sbagliato, no? Quindi perché svalutato Giroud? Ma perché in tante leghe entrerà il Bajas di memoria, che penserà a Revic, doppietta, penserà ad Origi, che comunque è entrato anche lui. E quindi in qualche modo verrà messa in discussione la titolarità di Giroud lì davanti. Per me invece, almeno per ora, non è in discussione. Poi sono il primo a dire che sul medio lungo potrebbero esserci delle sorprese lì davanti. Ve ne ho già parlato nel video sui Jolly, quando vi ho parlato di Origi, ma almeno per ora, se Giroud sta bene, Giroud gioca. Non ha giocato perché Giroud non era il meglio. Giroud resta comunque un attaccante da pagare dal 10% al 15% del budget, possibilmente più vicino al 10% che al 15%. Però, in questo momento, se per caso nella vostra lega viene svalutato e lasciato sotto al 10%, prendetelo perché è un affare da non perdere. Altro motivo per cui potrebbe essere svalutato Giroud è il rigore calciato da Teo. Qualcuno potrebbe dire, ah ma vuoi vedere che ora il rigorista è Teo? Io credo che con Giroud in campo l'avrebbe battuto comunque Giroud. Quindi anche questo fattore potrebbe pesare. Cerchiamo di sfruttarlo a nostro vantaggio. E il quinto e ultimo giocatore, non dico così svalutato, ma che comunque potreste pagare meno di prima, è De Miral dell'Atalanta. Perché? Ma perché io ho già letto un po' in giro. Sta passando il messaggio che l'Atalanta senza Demiral ha vinto 2-0, non ha sofferto. Ocoli bene, Scalvini nel secondo tempo bene, Toloi gol. Ragazzi, l'ho già detto ieri, se avete visto la partita, Toloi bene il gol, Scalvini è entrato bene, Ocoli a me non ha convinto così come alcuni dicono. L'Atalanta dietro ha sofferto. Cioè, De Miral per questa squadra è un giocatore importante. Se avete dubbi che tra De Miral e Ocoli possa essere il titolare De Miral, no. De Miral è il titolare dell'Atalanta. Io credo che quest'anno, con solamente il campionato, De Miral possa anche fare una stagione migliore dell'anno scorso in chiave modificatore. Se De Miral ve lo lasciano sotto al 4% e avete il modificatore, potrebbe essere un ottimo affare. Quindi qua non si sta parlando di una svalutazione netta, però in quelle leghe dove magari non si vedono le partite e dove si sentono solamente così le notizie piovere dal cielo, beh, tranquilli che Ocoli è sicuramente un giovane dall'ottimo potenziale, dalle prospettive rosee, ma deve ancora migliorare tanto. De Miral sarà il titolare dell'Atalanta. Ragazzi, questi erano i 5 giocatori in qualche modo svalutati dopo le partite di sabato. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto, vi ringrazio. Grazie mille. Mi raccomando like, mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao! Ciao!